A Roma ci sarà un'importante manifestazione per l'Aquila nel decennale del terremoto. Il 9 maggio, nella giornata dedicata all'Europa a Palazzo Sora in corso Vittorio Emanuele 217, si svolgerà un incontro culturale organizzato dalla poeta Anna Manna per sostenere la città dell'Aquila nel suo lungo e difficile cammino di ricostruzione, materiale ed interiore, oltre che di ricomposizione sociale. L'evento intende mettere in luce l'importanza nel panorama nazionale della realtà culturale aquilana, anche oggi estremamente viva e feconda. All'interno del premio Italia Mia, sezione del premio Europa e Cultura, si snoderanno gli interventi e le letture di poeti aquilani, come omaggio ad un luogo amato e diventato paesaggio dell'anima. Evento ancora più significativo sarà la presentazione dell'antologia La parola che ricostruisce Poeti Italiani per l'Aquila, curata da Anna Maria Giancarli per le edizioni Bertoni di Perugia. Gli autori presenti compongono uno spartito a più voci, in cui intendono affermare in primis il valore della condivisione umana e quello dell'efficacia della parola permeata dal pensiero. Quindi un prezioso contributo viene da loro donato alla città, che si arricchisce ancora di più di poesia. Infatti già nel 2010 fu pubblicata e sempre curata da Anna Maria Giancarli un'altra antologia di poeti italiani dedicata all'Aquila. Va evidenziato ancora che molti di loro, ormai storicizzati, rappresentano un eccellente spaccato della produzione poetica italiana e che contribuiranno alla conoscenza della ricchezza di una città duramente colpita dal catastrofico terremoto, ma che possiede la capacità di risorgere, convinta che il futuro viene dal passato e che anche questa volta tornerà al suo secolare splendore.